Di Cagliari contro la Svizzera Egli Cantem Questa curta però si fa soppiare il pallone da Lengsutter che va via sulla sinistra Pericolosa azione della Svizzera La porta è vuota, attenzione, il tiro, il gol della Svizzera Svizzera che passa in vantaggio Con il giocatore Orell Di Chiara, Evani, Lempini Dentro il colpo di testa in copertura di Egli Il buon controllo da parte di Sforza che poi tocca di prima in proponità Costa curta Ancora per Erroraccio da parte di Marcheggiani 2-0 per la Svizzera Errore incredibile di Marcheggiani E Sciapuisane approfitta per mettere dentro il pallone del 2-0 Trentottesimo del secondo tempo Non riusciamo a segnare Albertini E forse c'è la fuorigioco di Lentini Lentini che però riesce a mettere in mezzo Vavialli a colpire di testa A fare da torre Poi c'è un disimpegno stavolta lezioso degli svizzeri Il gol da parte di Baggio Eccesso di confidenza da parte della difesa svizzera Stavolta il gol di Baggio Al trentottesimo del secondo tempo Roberto Baggio riaccende le speranze per noi Ecco Di Chiara Tempo scaduto Va Di Chiara Riesce a mettere in mezzo Palla fuori Ma per Eranio Tira e gol Gol di Eranio Eranio praticamente a tempo scaduto Riaquanta il 2-2 Riaquanta il 2-3